Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dell'Eytecronos Oggi siamo su Uncharted 4, la fine di un ladro, finalmente Su questo canale una nuova serie So che sono stato assente per molto tempo e mi scuso ma ho avuto parecchie cose da fare e ne avrò ancora Di conseguenza cerco di fare il mio meglio Tra esami e lavoro comunque è un po' difficile Siamo su Uncharted 4 ragazzi, ricordo che questa sarà una serie senza commentari Introdurrò la mia voce solo nelle intro, forse nell'outro E per introdurvi tutti i collezionabili perché cerco di prendere tutti i collezionabili Sia tesori che ne sono ben 100 Dialoghi opzionali per darvi il meglio dell'esperienza videolutica per questo gioco Gioco molto atteso tra l'altro quindi spero vada abbastanza bene questa serie Cercheremo di giocarlo nella modalità devastante, la più difficile di tutte Di conseguenza se vedrete qualche editing, qualche cut magari perché sarò morto Di conseguenza ho tagliato fuori quella parte Spero che questa serie vi piaccia, come sempre iscrivetevi al canale per essere aggiornati Non mi rimane altro che augurarvi una buona visione Spero che stai a trovare un'esperienza Spero che stai a trovare un'esperienza La mia moglie! La mia moglie! Oh, merda! Tu... non va... Niente bene... Preggiti! Preggiti! No! Nutter! Ci sono le costole! Sì, lo so, lo so! Beh, accederla! Sepp, oggi andando più veloce che posso! Odia merda! Tu prosegui verso l'isola, io li tengo a bar! Oh, cazzo! Stanno arrivando! Sono solo barchette! Sbarchici contro! Speso! Ehi, trotti! Dica ai vostri capri di trovarsi un altro tesoro! Non sto combinando, Granken! Vieni lì a distanza! Lei! Stai spazzando a pick! E affonda! Aia! Superbarcone! Non perdere! Mi sei venendo una scia di video! Mi sei venendo! Mi sei venendo! Seppi verso l'isola! E cerca di non restare in scia! Aia! 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 Sì! Aia! 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 Alla! Aia! Aia! Sto bene! Sto bene! Eh, il motore è andato. Cosa? Ok, posso rimanarlo, ma tu corri! Dannazione! Forza! Fateli saltare in aria! Dannazione! Come avvicinare! Oh, che puttana! Il karma non perdona! Cazzo! E arrivano altri! Oh! Come va il colmatore? Facendo un progresso! Andiamo! Se l'ho fatta! Qui la dritta verso l'isola! Nanda, scogli! Davanti a noi! Non vedo un accidenti! Merda! Toglili di mezzo! Sto facendo impossibile! Nanda, presto! Preggiti forte! Sulla tua destra! Tento, attento! Oh, cazzo! Nathan! Nathan. Nathan. Cosa dobbiamo fare con te? Ormai sarai stufo delle mie prediche e io sono stufa di ripeterle. E ora dovrai stare qui con me per i fine settimana invece di andare in ritiro con gli altri. Non mi importa. Sì, è questo il vero problema. Perché devo essere l'unico a stare in punizione? Perché hai iniziato tu, Larissa? Non voleva ridarmi il mio libro. Ti avevo detto di tenere in camera quei libri. La colpa è soltanto tua. Questo non gli dà il diritto di rubarmeli. Quindi pensi che ti dia il diritto di tirargli un pugno? Non era solo per il libro. Per cosa allora? Niente. Lo dirò al confessore. Nonostante i miei sforzi, sembrì davvero deciso a ripetere i tristi errori di tuo fratello. È un peccato. Sam! Sam! String! 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 Ti vedo. Qui si sale. Troppo scivoloso. Ok, fai piano. È nostro dovere aiutare i ragazzi come lui. Ma rischio di trascurare le decine di altri ragazzi sotto la mia tutela. Cosa vuole che faccia? Sa già come la penso. No, non sono ancora disposto ad arrendermi. Non puoi mandare il problema. Senta, parlerò con lui domattina stessa. D'accordo? Buonanotte, padre. Notte, sorella Katrin. Oh, è la mia cartella. Oh, è la mia cartella. È la mia cartella. Buonanotte. Buonanotte. Devo arrivare a quella finestra. Forza, muoviti, sorella. Nathan! Sei proprio nei guai! Sorella Catherine! Oh, diamine. Ah, sorella Catherine, ho di nuovo dimenticato le chiavi. Potrebbe aprirmi il cancello. Arrivo, padre. Andiamo. Andiamo. Oh, no, no. E' quasi fatta. Sam? Oh, devi imparare a guardarti le spalle. Certo. Ehi, è bello vederti, fratellino. Cosa? Cos'è questo? Ma scherzi, di nuovo? Non è niente. E il patto di non cacciarti nei guai? Ma ci spalava merda addosso. Ma allora? Ha detto che papà ci ha scaricati perché siamo un peso e mamma è all'inferno per… Nathan, dai, lo dicono solo perché sanno di ferirti. Capito? Devi imparare a riderci su. Tu non ridi. Fa quel che dico, non quel che faccio. Tieni. O prendi freddo. Forza. Quindi, perché sei venuto qui così? Se le suore ti beccano chiameranno la polizia. Ho un regalo per te. E non può aspettare Natale. Cosa? E' qui fuori. E il non cacciarsi nei guai? Beh, questa è un'eccezione. Mhm. Bel salto. Andiamo. Dai, dammi la mano. Ehi, sei leggero. Le suore ti danno da mangiare. Questo posto è deserto. Dove sono gli altri? A un ritiro religioso. Mi ricordo. Come sta, padre Daffi? E' l'unico che si salva qui. Entra per un saluto. No. Non mi servono, ramazzini. Ehi. Di qua. E' stato facile. Andiamo. Cavolo. Non l'hai puntellata? Ma... L'ho fatto. O almeno credevo doverlo fatto. Non importa, passeremo dall'alto. Dall'alto? Tu seguimi. Guarda. Wow. E ora... siamo pronti a salire. L'hai mai fatto, prima? Un paio di volte. Su, forza. Tocca a te. E tu? Cosa combini? Lavoro, soprattutto. Esci ancora con quella tipo? Chi? Cristo? Ma... Abbiamo alti e bassi. Per ora, soprattutto bassi. qui? Ok. E ora? Niente paura! Non pensare e salta! Puoi farcela! Stengo! Visto? Niente di che. Già. Una passeggiata. Resta con me. Forte, eh? Fortissimo. Di qua. Ti seguo. Tra poco c'è un salto. Ok. Dai. Resta al centro. Procedi con calma. Dici che è peccato. Forse abbiamo peccato. Pronto, Tarzan? Sì. Vai avanti. Dai, sul campanino. Forza. È troppo alto. D'accordo. Allora fai il giro. Bel panorama, eh? Sì. Non male. Eri già stato quassù? Su questo tetto? No. Sai dove devi andare, giusto? Più o meno. Aspetta qui e guardami. Sì. Tocca a te. Ok. Coraggio. Dai, coraggio. Oh, merda! Sono correso! Forza! Andiamo. Ce l'ho fatta? Sì. Certo che sì. Sai cosa? Questa volta lo fai tu. Davvero? Sì, davvero. Io ti vengo dietro. Ok. Proviamo. Scendi. Così si fa. Siamo liberi. Bene. Che te ne pare? Wow, hai preso la 250. 250? Che stai farneticando? No, è la 502 cilindri. Incredibile. Dove l'hai rubata? Wow. È un colpo basso. Ok, devi sapere che sono molto cambiato. L'ho comprata lavorando sodo. Dai, su. Monta in sella. Cosa? Quando fai queste sorprese è perché cerchi di farti perdonare. Tu sei fin troppo sveglio, lo sai, vero? Va bene. Ho trovato lavoro. Pagano bene. Molto bene, ma... starò fuori città per un po'. Quanto sarebbe un po'? Circa un anno. Al massimo. Ma tornerò prima che tu te ne accorga, credimi. Mi pianti in asso? Smettila non essere così tragico. Quindi non ti è bastato abbandonarmi lì dentro? Come puoi farmi questo, Sam? Ehi, lo faccio per il tuo bene. Quei soldi saranno utili a entrambi. E nel giro di un paio d'anni... Un paio d'anni! Portami con te. No, mantengo a stento me stesso. Contribuirò. Senti, so che l'orfanotrofio ti fa... Ma sai quanto? Sì, ma ora per te è la soluzione migliore. Capito? Davvero, fidati di me. Non è giusto. Ehi. Abbiamo mai avuto niente di giusto? Ma ce la siamo cavata. No? Certo. Beh... Sai, la moto non era l'unica sorpresa. E dovrò svelarti la seconda. Cosa? Ho trovato le cose di mamma. Quelle vendute da papà, ho rintracciato l'acquirente. Ti avverto se lo dici solo per consolarmi. No, 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 te lo giuro. Dove? Al di là della città. Che ne dici di andare a prenderle? Vuoi dire rubarle? Beh, non puoi rubare ciò che ti appartiene già. Non credo che la polizia sia d'accordo. Allora non facciamoci beccare. Te la senti? Ovvio che sì. Voglio andare in! Vori! 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 Grazie a tutti.